Si dividerà in due parti, quindi, diciamo, l'incontro di oggi, molto semplice come struttura. La prima, una sorta di radiografia della questione, cioè il tema è quello dell'innocenza, il tema è quello dell'infanzia, questa immagine, questa locandina con tre bambini vestiti già da adulti, con la faccia molto seria, molto ingrugnita. Cosa resta dell'infanzia? C'è ancora spazio per l'infanzia, l'età dell'innocenza esiste ancora l'età dell'innocenza, quindi la prima parte è la lettura, molto calma, di questo contributo che mi è arrivato, una maestra alla luce della sua esperienza da dieci anni di insegnamento, quindi dieci anni che ogni giorno incontra e vede bambini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.